Non c'è pace per la questione movida in piazza Muzzi a Pescara. Se più volte i residenti hanno protestato per ottenere misure di tutela da parte dell'amministrazione comunale, ottenendo presidi con forze dell'ordine per i weekend, e la settimana scorsa anche la collaborazione da parte degli esercenti, che hanno di tasca propria inserito vigilantes nei locali, un nuovo caso sabato scorso ha riaperto la querella. In questo caso però la presenza delle forze dell'ordine ha garantito l'arresto di chi aveva provocato la zuffa. La questione sembra essere adesso di tipo sociale e non semplicemente amministrativa. Con il posto fisso di Polizia Municipale nel fine settimana fino alle 4 del Martino, con il posto Interforze, appunto coordinato con la Questura, i Carabinieri e le altre forze dell'ordine, e poi abbiamo aggiunto, grazie all'impegno dei commercianti, la sicurezza privata. Non bisogna dare responsabilità o colpe solamente agli esercenti, è una zona che nel fine settimana è frequentata da migliaia e migliaia di giovani, migliaia di persone. Purtroppo esistono, chiamiamoli con il proprio nome, imbecilli che la sera escono non per divertirsi ma per fare dei danni. Più forze dell'ordine, orari ridotti e sorveglianza privata, ma la movida comunque la si guardi sembra non mettere d'accordo chi sceglie di divertirsi e chi invece vorrebbe dormire qualche piano più in su. In settimana integreremo questo pacchetto di provvedimenti con una nuova ordinanza che andrà a limitare gli orari di esercizio sulla piazza stessa. Questo significa maggiore attenzione e maggiori strumenti a servizio delle forze che dovranno poi controllare la zona.